E' giunta l'ora, Padre per me, ai miei amici ho detto che questa è la vita, conoscere Te e il Figlio Tuo, Cristo Gesù. Che erano Tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a Te. Hanno creduto, conservali Tu, nel Tuo amore, nell'unità. Tu mi hai mandato ai figli Tuoi, la Tua parola è verità. E' il loro cuore, sia pieno di gioia, la gioia vera viene da Te. Io sono in loro, e Tu in me, che siano perfetti nell'unità. Che il mondo creda, che Tu mi hai mandato, li hai amati come ami me. Io sono in loro, e tu in me, che siano perfetti nell'unità. Grazie.